Oggi siamo in cucina e prepareremo tre colazioni per voi, perfette da portare in giro, a lavoro, a scuola o all'università. Infatti queste colazioni si possono preparare in anticipo, quindi magari nel weekend, quando avete più tempo. Io faccio così e poi le conservo e le consumo durante la settimana. Oggi abbiamo due versioni dolci per voi e una salata. Sono le mie preferite in assoluto, infatti secondo me piaceranno un sacco anche a voi. Sono colazioni gustose e che saziano e secondo me potete prepararle per tutta la famiglia perché piaceranno un sacco. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al nostro canale, in questo modo non vi perderete i nostri video e direi che possiamo cominciare con le ricette. Come prima ricetta faremo delle piadine di legumi, con pochissimi ingredienti e perfette per una colazione salata. In una ciotola uniamo 280 grammi di farina di ceci, poi aggiungiamo 160 grammi di yogurt di soia, un pizzico abbondante di sale. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti mescoliamo bene con un cucchiaio per far amalgamare il tutto. Dopodiché spostiamo l'impasto sul tavolo e cominciamo ad impastare a mano, fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Poi con un coltello infarinato tagliamo il panetto in quattro parti uguali. Infariniamo il tavolo con della farina di ceci e andiamo a stendere il primo panetto con il matterello, sempre infarinato. Man mano che impastiamo aggiungiamo ancora farina. Stendiamo l'impasto finemente ad uno spessore di circa 2 mm, ricaviamo le piadine e le cuociamo in una padella leggermente spennellata con un filo d'olio. Cuociamo le piadine per un paio di minuti da entrambi i lati, dopodiché le disponiamo su un piatto una sopra l'altra e mentre sono ancora calde le copriamo per mantenerle morbide. Noi le abbiamo servite con della maionese, dell'insalata, con delle uova, olive verdi e dei pomodori secchi, ma voi potete scegliere quello che preferite. Potete anche congelare le piadine da crude dopo che le stendete. Sconsiglio di congelare le piadine già cotte perché andrebbe a compromettere la loro consistenza. La seconda colazione è un gustosissimo granola perfetto da aggiungere allo yogurt di soia o anche da sgranocchiare da solo. In un frullatore aggiungiamo 170 g di datteri denocciolati, insieme a 100 g di burro di mandorle e circa 30 ml di acqua. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto cremoso. Dopodiché lo spostiamo in una ciotola nella quale aggiungiamo anche 200 g di fiocchi di quinoa o grano saraceno, 100 g di mandorle tagliate a pezzi, 40 g di mirtilli rossi, un cucchiaio circa di cannella e un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto molto bene fino ad ottenere un composto appiccicoso. Dopodiché lo distribuiamo uniformemente su una teglia ricoperta con carta da forno. Inforniamo il tutto a 170 gradi per circa 30 minuti nel forno statico preriscaldato. A metà cottura diamo una mescolata veloce e poi inforniamo nuovamente. Quando il granola sarà pronto lo facciamo raffreddare completamente e poi lo conserviamo in un barattolo di vetro. Si conserva benissimo per un paio di settimane. Durante la settimana potete servire il granola con dello yogurt di soia, marmellata o altra frutta a piacere. La terza colazione è un budino di chia al cacao, senza cottura, super goloso per le tue colazioni dolci. In una ciotola uniamo 240 ml di latte di mandorle, 50 g di semi di chia, un cucchiaio di miele o sciroppo d'acero, un cucchiaio di cacao amaro e circa mezzo cucchiaio di cannella. Lasciamo riposare per almeno 20 minuti mescolando ogni tanto. Dopo 20 minuti il budino si è addensato ed è pronto. Potete servirlo con dei kiwi come ho fatto io, sbucciati e tagliati a cubetti e potete anche preparare dei comodi barattolini da portare con voi. Il budino di chia al cacao si può conservare nel frigorifero per circa 4 giorni. Avete visto quanto è facile preparare le colazioni per la settimana? Basta semplicemente essere un po' più organizzati. Nelle prossime settimane invece rilasceremo dei video che contengono delle ricette per carnevale, dei menu settimanali e tante altre belle cose alle quali stiamo lavorando. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciateci un mi piace e un commento. Ora io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!